Come essere intelligenti e liberi abbiamo la facoltà di scelta e quindi la libertà di ricevere o no Gesù Cristo nella nostra vita. Quest'azione di accettazione per fede di Gesù e della sua grazia è quella che salva. Nel momento in cui riceviamo in questo senso Gesù Cristo siamo nati di nuovo. Non da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio. Giovanni 1 verso 13. Il Signore conferma questa nostra decisione compiendo una rivoluzione personale nella nostra vita. Siamo nati di nuovo per la volontà di Dio. Nessuna potenza avversa può interrompere questa opera. L'unica cosa che può impedire questa opera è soltanto la nostra volontà individuale. Il Signore non forza l'opera sua in noi. Dio non coarta la volontà e la libertà dell'individuo. Quando l'uomo accetta il Signore Gesù Cristo, quando in conseguenza di una scelta libera e responsabile della propria fede permette allo Spirito di Dio di operare nel suo cuore, nulla potrà fermare questa azione potente perché è compiuta da Dio stesso. L'Evangelo è quindi l'annuncio della venuta, della vita, della morte e della risurrezione di Cristo, allo scopo di produrre la certezza della salvezza eterna per quanti credono ed accettano quest'opera potente del Salvatore divino.